gloria a dio pace a tutti nell'amore del signore vi do subito i saluti anche delle chiese di fordì una rappresentanza è qui questa sera grazie a dio anche dalla chiesa di lugo ricevete i cari fraterni saluti dei fratelli detto questo che era la cosa più adesso permettetevi di dirvi qualcosa che ho nel cuore perché quando mi sono messo in macchina questa sera a casa 4 di oggi pomeriggio e ho messo in moto e sono partito improvvisamente ho fatto un salto all'indietro di 28 anni fratello lino 28 anni fa a rimini io e mia moglie insieme nello stesso giorno abbiamo fatto il patto col signore e quindi mi sento di dire che pure noi siamo un frutto della chiesa di rimini ha tanto pregato per noi i fratelli ci sono stati vicino e oggi essere qui è per noi un motivo di emozione di commozione di gioia alleluia dio vi benedica siete bellissimi alleluia sarà il vestito piano siete belli perché siete proprio belli gloria al signore anche perché l'emozione rende ancora più belli perché chi conosce gesù non conosce una religione come diceva il fratello conosce una persona si innamora di una persona e allora ecco che le emozioni si accendono e gloria al signore è bellissimo la cosa più bella che potevate fare era accettare gesù nella vostra vita e la nostra preghiera che qualcuno questa sera possa seguire la stessa scelta che hanno fatto loro gloria al signore alleluia non voglio prendere molto tempo perché ancora c'è dell'altro dopo però voglio ringraziare il signore innanzitutto perché mi dà la possibilità e la gioia di poterlo servire oggi in mezzo a voi ringrazio il fratello spiridione il consiglio di chiesa i fratelli per l'invito che mi hanno rivolto e sono particolarmente onorato ringrazio dio e al signore chiedo di darmi la libertà di poter amministrare la sua parola con franchezza e al signore ho chiesto e ho detto signore guida la tua parola appena il fratello ione mi ha chiamato mentre parlavamo al telefono a me è venuto subito in cuore questo pensiero che adesso esporrò però poi per noi credo anche per i fratelli pastori qui presenti comincia una lotta signore ma è questo quello che tu vuoi che io dica signore io posso dire tante cose ma le mie mille parole non possono fare nulla ma una parola che procede dal signore questa sera può cambiare un cuore può trasformare una vita e questo è quello che noi vogliamo questa sera e sono venuto con questo pensiero pregato questa mattina e poi quando il fratello spiridione ha aperto il culto ha puntualizzato sottolineato siate forti e coraggiosi e l'ha anche ripetuto e se avete sentito anche nella preghiera ha parlato del coraggio della scelta e noi questa sera parleremo proprio del coraggio di fare la scelta giusta e ringrazio il signore alleluia voglio leggere con voi due versi che si trovano scritti nel secondo libro dei re al capitolo 22 i primi due versetti ma poi ci concentreremo ci soffermeremo sul secondo versetto secondo libro dei re capitolo 22 gloria a gesù alleluia gli angeli fanno festa nel cielo questa sera ma io credo che anche la chiesa è allegra questa sera che bella festa ogni volta che qualcuno scende nelle acque battesimali io prego il signore di non scenderci prima di voi che non si apra la botola sotto e ci scendo prima ci alziamo in piedi Giosia aveva otto anni quando cominciò a regnare e regnò 31 anni a Gerusalemme sua madre si chiamava Giedida figlia di Adaya da Boscat egli fece ciò che è giusto agli occhi del signore e camminò in tutto e per tutto nella via di Davide suo padre senza scostarsene né a destra né a sinistra signore noi ti ringraziamo questa sera e il nostro cuore tra bocca di gioia davanti alla tua presenza perché tu sei la persona più importante questa sera in mezzo a noi e a te vogliamo continuare a il nostro sguardo e mentre noi guardiamo a te o signore o padre ti preghiamo manda la tua parola dal cielo ungila con la potenza e l'unzione dello spirito tuo santo dirigila ai nostri cuori signore e la preghiera nostra è che questa sera qualcun altro possa conoscere che tu sei il salvatore di tutti gli uomini ti ringraziamo in Gesù benedetto in eterno amen accomodatevi pure gloria al signore vorrei con l'aiuto del signore questa sera dirvi innanzitutto perché questi cari hanno preso la decisione di fare una scelta coraggiosa e poi voi vorrei potervi anche dire che cosa occorre per fare una scelta coraggiosa noi viviamo in una società che è sempre più immersa nell'egoismo una società dove sempre di più ognuno pensa a se stesso la pubblicità che colpisce più di tutti è quella che dice il mondo ruota intorno a te tu sei al centro dell'universo e tu devi essere la persona più importante dell'universo non c'è niente di nuovo sotto il sole l'apostolo paolo tanti anni fa scriveva dicendo che negli ultimi tempi sarebbero venuti giorni difficili perché gli uomini sarebbero stati egoisti e noi viviamo immersi in una società dove sempre di più emerge l'egoismo della gente facciamo parte di una collettività sempre più edonistica dove la ricerca della soddisfazione la ricerca del piacere è spinta fino all'eccesso se una cosa ti piace falla questo è il messaggio che lancia la nostra società e lasciatemi dire che in questo la nostra riviera fa da traino al resto del mondo dove il piacere dilaga impera e oggi si corre dietro a ciò che piace non a ciò che è buono ma a quello che piace siamo parte di una nazione che vive in un evoluto paradosso noi siamo contemporaneamente sempre più religiosi ma anche sempre più lontani da dio essere vicini a dio non significa necessariamente essere religiosi se l'apostolo paolo camminasse per le nostre città in una qualunque città della nostra nazione potrebbe dire ancora oggi ciò che disse agli atenienzi io vedo che in ogni cosa siete fin troppo religiosi ci sono oltre duemila religioni e la gran maggior una gran parte di queste religioni sono praticate in italia ma dio è sempre più lontano dai cuori e dai progetti delle persone alleluia ecco in una società come questa come la nostra ci vuole coraggio per fare la scelta giusta e questi cari sono qui questa sera perché hanno avuto il coraggio di fare la scelta giusta in fondo che cos'è il coraggio il coraggio tratto questo dal dizionario proprio è il coraggio è la forza d'animo che permette di affrontare dominare subire situazioni difficili anche la morte e chi conosce davvero Gesù è disposto a dare la sua vita per Cristo Gesù ma poi dice sempre il dizionario ascoltate è la capacità di affrontare rischi pericoli o addirittura l'impopolarità per amore della verità vogliamo dirvi questa sera che Gesù è la verità Gesù è la sola verità e noi abbiamo scelto di seguire la verità che Gesù Cristo e l'abbiamo fatto con coraggio perché abbiamo dato la nostra vita in questa scelta scegliere Gesù è la scelta più bella importante è la scelta più entusiasmante è la scelta eterna della propria esistenza ma scegliere Gesù nel nostro tempo come in qualunque altro tempo del passato è la scelta che più di tutte le altre richiede coraggio siate forti coraggiosi oggi è un bel giorno perché il vostro giorno diceva il fratello Ione ma da domani e da questa sera stessa la vostra vita è nelle mani di Gesù per essere testimoni di Cristo Gesù al mondo che non lo conosce ci vuole coraggio e voi avete avuto coraggio e quando abbiamo fatto questa scelta abbiamo avuto il coraggio di fare la scelta giusta perché il mondo non accetta la scelta che noi abbiamo fatto la scelta di seguire e servire Cristo Gesù è pazzia ancora oggi per il mondo che non conosce Cristo parlare dei miracoli e parlare della croce di Cristo Gesù è scandalo ancora oggi per quelli che non conoscono Cristo ma per noi è la nostra stessa vita io non mi vergogno dell'Evangelo di Gesù Cristo perché esso è la potenza di Dio per tutti coloro che credono ecco perché ci vuole coraggio ma cosa occorre per fare una scelta coraggiosa Giosia questo giovanissimo re ci viene incontro se avete seguito la lettura avete avrete ascoltato che era veramente giovane quando ha fatto la sua scelta e qui ci sono più giovani meno giovani perché non c'è un'età opportuna per fare la scelta giusta alcuni dicono sono troppo giovane per fare la scelta giusta ho tutta la vita davanti voglio prima godermi la vita non sappiamo quanto vita quanta vita abbiamo andando avanti lo sa solo il Signore altri dicono no adesso ho troppe cose da fare mi sono sposato una famiglia ho i figli da sistemare ci penserò poi dopo alla scelta che dovrò fare e intanto il tempo passa e qualcuno poi arriva al punto di dire no adesso forse sono troppo vecchio per fare la scelta giusta no oggi è il giorno della salvezza oggi è il giorno della grazia questa sera anche tu puoi trovare in te il coraggio di fare la scelta giusta giusta Giosia ci insegna dicevo che cosa serve per fare per per fare la scelta giusta innanzitutto la scelta coraggiosa di seguire il Signore è una scelta estremamente personale non è mai stato facile schierarsi dalla parte di Dio e non lo era neanche per questo giovanissimo re non lo era neanche per Giosia perché Giosia viveva circondato da persone che non seguivano Dio non adoravano Dio era un popolo erano il popolo di Dio religiosamente ma non amavano Dio non adoravano Dio avevano rivolto il proprio cuore a idoli di diverse nazioni ma lontano erano dal Signore di suo padre dice la parola che suo padre il padre di questo giovane re fece ciò che è male agli occhi del Signore che si allontanò dal Signore quando i credenti leggono del nonno di Giosia viene un po' di pelle d'oca il nonno di Giosia è stato l'uomo più malvagio che la nazione di Israele abbia conosciuto si chiamava Manasse e ne fece di ogni commise tanti di quei peccati no decisamente Giosia non poteva essere condotto a Dio dalla sua famiglia non poteva essere condotto a Dio dall'esempio di quelli che lo circondavano inoltre lui stesso non poté portare al Signore suo figlio del quale dice la parola che quando aveva 23 anni cominciò a regnare e fece ciò che è male agli occhi del Signore uno dei momenti più belli della mia esperienza con Cristo Gesù è stata quando i miei figli hanno scelto di fare quella scelta coraggiosa di accettare Gesù è stato uno dei momenti più belli della mia vita quando mi hanno comunicato la notizia che avevano accettato Gesù e volevano fare il battesimo ma in quel momento abbiamo realizzato che non era per merito nostro che erano andati a Gesù noi possiamo instradare i nostri figli noi abbiamo l'obbligo di annunciare l'Evangelo ai nostri figli nella nostra famiglia noi abbiamo l'obbligo di inculcare ai nostri fanciulli la legge dell'eterno e anche da lontano da quando saranno grandi non se ne allontaneranno ma la scelta di accettare Gesù è una scelta personale qualcuno ha detto giustamente Dio non ha nipoti non si diventa credenti per filiazioni ma si diventa figlioli di Dio per una scelta estremamente personale gloria al Signore e se desideri conoscere colui che ha dato la sua vita per amore tuo non puoi fare affidamento sulle persone che ti circondano se le persone che ti circondano non conoscono Gesù ti scoraggeranno a fare questa scelta cercheranno di impedirti di fare questa scelta se le persone che ti circondano non conoscono Gesù non potranno condividere la scelta che tu fai di accettare Gesù come tuo personale salvatore no sicuramente non puoi contare sugli amici non puoi contare sui colleghi ma neanche sui parenti ognuno di noi è chiamato a fare personalmente la sua scelta Gesù Cristo è il salvatore di tutto il mondo ma quello che rallegra il mio cuore è sapere che Gesù Cristo è il mio personale salvatore come mi piace leggere nella Bibbia che Gesù conosce le sue pecore e le chiama per nome per nome sapete ho fatto ho lavorato in divisa per tanti anni per 26 anni e quando lavoravo nel mio lavoro secolare un'altra vita passata non ero un nome ero un numero io potevo anche scrivere il mio nome ma quello che non dovevo sbagliare era il numero perché eravamo dei numeri e nella società dove noi viviamo siamo dei numeri quando andate alla cop o a un altro negozio e fate la fila per prendere l'affettato non vi chiamano per nome vi chiamano per numero Gesù non ti chiama per numero Gesù ti chiama per nome perché ti conosce personalmente e il desiderio del suo cuore che tu lo possa conoscere questa sera personalmente come hanno fatto questi cari gloria al nome del Signore un profeta antico si chiamava Michea si esprimeva diceva dicendo quanto a me io volgerò lo sguardo verso il Signore io spererò nel Dio della mia salvezza il mio Dio mi ascolterà non devi unirti a una religione devi accettare Gesù come tuo personale salvatore e lui diventa il tuo Dio il nostro salvatore non è lì Dio della domenica quando siamo al culto certo che lui è in mezzo a noi la domenica quando siamo al culto il nostro Dio è lì Dio delle nostre famiglie è lì Dio che vive con noi nelle nostre case è lì Dio che conosce i nostri problemi è lì Dio che conosce le nostre difficoltà è lì Dio che tutti i giorni ci dice non temere io sono con te alleluia un grande condottiero della storia biblica poteva dire nella sua vecchiaia quanto a me e alla casa mia noi serviremo il Signore e fratelli sorelle la scelta di servire il Signore quotidianamente sarà sempre una scelta personale voglia il Signore che come Giosuè potrete anche dire anche voi quanto a me alla casa mia ma noi abbiamo fatto un patto a casa mia se anche gli altri si dovessero tirare indietro io no ma l'abbiamo fatto tutti quindi vuol dire che tutti quanti insieme ci aiutiamo ad andare avanti al giovane conservo Paolo scriveva dicendogli di non guardare agli altri a quello che fanno che decidono di fare ma tu persevera nelle cose che ha imparato fare la scelta giusta richiede coraggio perché è una scelta personale ed è una scelta che va presa nel segreto della propria cameretta è una scelta che va presa ai piedi di Cristo Gesù quando non c'è nessun altro tu e Gesù dove puoi trovare Gesù puoi trovarlo questa sera in mezzo a noi ma se gli apri la porta del tuo cuore puoi trovarlo questa sera quando vai a casa e magari a letto non riesci a addormentarti pensi alle cose che sono state dette questa sera puoi trovarlo lunedì mattina quando vai al lavoro e stai camminando in macchina e rivolgi il tuo pensiero e apri il tuo cuore a Cristo Gesù lui ti è sempre 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 vicino alleluia è una scelta personale una scelta coraggiosa ora fare una scelta coraggiosa per fare una scelta coraggiosa occorre essere assolutamente convinti non basta fare una scelta personale devi essere assolutamente convinto di quello che stai facendo e io credo che questi cari che questa sera fra un po scenderanno nelle acque battesimali ci hanno pensato molto a quello che avrebbero dovuto fare vero e forse avranno avuto anche dei combattimenti saranno venuti anche dei dubbi ma cosa sto facendo ma chi me la fa fare ci siamo passati tutti non vi preoccupate ma la convinzione ha preso il sopravvento e questa sera sono decisi di quello che stanno facendo proprio perché sono convinti della scelta che hanno fatto ed è stato bello sentire le testimonianze perché erano tutte piene di convinzione gloria al Signore per potersi convincere appieno della scelta che doveva fare questo giovane re Giosia non poteva contare sulla testimonianza delle persone che lo circondavano l'abbiamo detto prima lui se guardava alla sua famiglia la sua famiglia si era allontanata dal Signore se guardava ai suoi concittadini i suoi concittadini adoravano Dio sopra ogni alto colle dappertutto tranne che nel tempio dove Dio aveva detto che doveva essere adorato e quindi cosa poteva fare questo giovane re ha dovuto fare una cosa ha dovuto scavare nella storia del popolo per vedere chi più di tutti gli altri aveva prima di lui avuto il coraggio di fare la scelta giusta ha dovuto scavare è andato a prendere il libro dei re il libro delle cronache di Israele ha cominciato a leggere perché lui aveva il desiderio di sapere come si fa a fare la scelta giusta chi prima di me ha fatto la stessa scelta che io voglio fare e ha cominciato a scavare nei libri di allora e chi in quel tempo poteva essere un esempio migliore di Davide l'uomo secondo il cuore di Dio Giosia fece ciò che è giusto agli occhi del Signore e camminò in tutto e per tutto nelle vie di Davide per camminare in una via devi essere convinto della via che tu hai deciso di praticare di intraprendere gloria al Signore Giosia investigò le scritture di allora studiò la vita di Davide e cercò di imitarlo nei suoi comportamenti l'Apostolo Paolo quando era molto grande ha scritto una frase che rimane memorabile e dice l'Apostolo Paolo siate miei imitatori come io lo sono di Cristo ci vuole una scelta convinta per fare una scelta coraggiosa questa scelta deve essere una scelta convinta Davide non era un uomo perfetto Davide era un uomo peccatore quando leggerete della storia di Davide voi scoprirete che Davide non era meglio di noi ma neanche peggio di noi Davide non era un super uomo era un uomo comune Davide aveva soltanto un merito amava Dio con tutto il cuore ma oggi non c'è più Davide per fare una scelta convinta non devi posare il tuo sguardo su Davide non devi posare il tuo sguardo sull'Apostolo Paolo non devi postare il tuo sguardo sui fratelli o le sorelle attuali ci sono carissimi fratelli nella chiesa di Rimini che io amo che possono essere esempi da imitare ma sono esempi da imitare nella misura in cui camminano con Cristo Gesù noi questa sera per rendere coraggiosa e convinta la nostra scelta abbiamo davanti a noi l'esempio perfetto di Gesù Cristo il figlio di Dio colui che crea la fede fatemelo passare e la rende convinta la tua fede può essere resa convinta se tu vai a casa apri la Bibbia e poi cominci a scavare nella Bibbia e cominci a leggere la storia di Gesù e cominci a leggere ciò che Gesù ha fatto e quando i tuoi occhi cominciano ad aprirsi davanti alla Bibbia il tuo cuore si comincia a sciogliere e tu cominci a considerare che Gesù è venuto sulla terra e non ha commesso peccati e che è stato arrestato e che è stato crocifisso senza aver commesso nessun peccato solo perché lui aveva una gioia davanti a sé e quando lo Spirito Santo ti rivela che quella gioia era la tua salvezza allora il coraggio comincia a venire nel tuo cuore gloria al Signore come puoi fare una scelta coraggiosa se non sei convinto alleluia nessuno ti chiede di iscriverti a una chiesa ma quello che vogliamo dare l'invito e a conoscere Gesù il Salvatore alleluia per mezzo della Bibbia investigando le scritture leggi la Bibbia leggi la Bibbia e il coraggio verrà da solo leggi la Bibbia parlavo con una persona questa settimana il marito di una simpatizzante che sta venendo in chiesa appena siamo arrivati a casa sua ci ha subito aggredito perché io lo so chi siete voi forse c'è qualcosa di me che io non so ho cominciato ad avere dei dubbi voi siete quelli che fate il lavaggio del cervello alle persone ho detto guarda mio caro amico stai sbagliando persona perché a me il lavaggio del cervello non l'avrebbe potuto fare nessuno io ero ribelle non venivo da una famiglia di credenti non conoscevo Dio e non avevo nemmeno intenzione di conoscere Dio il Signore è venuto a bussare alla porta del mio cuore e ha insistito e quando ci hanno parlato di Gesù non avevamo una chiesa noi abitiamo a Ravenna e venivamo in chiesa a Rimini solo la domenica venivamo al culto era poca cosa però ci avevano dato un libro io non avevo mai visto prima e ci avevano detto leggete questo libro e conoscerete Gesù e insieme a mia moglie Ravenna nella nostra piccolo appartamento il pomeriggio lo passavamo leggendo la Bibbia e più leggevamo la Bibbia più ci innamoravamo di questo libro meraviglioso poi ci siamo accorti che in realtà ci eravamo innamorati di Gesù tu puoi conoscerlo Gesù perché Gesù ti vuole riconoscere e lo puoi conoscere se apri questo libro e cominci a investigare e allora questa parola che tu leggi entra nel tuo cuore e crea la fede e la rende convinta e ti dà il coraggio di fare la scelta giusta il coraggio di fare la scelta giusta richiede una scelta personale ma anche una scelta convinta ma una scelta coraggiosa e mi rivolgo anche a voi che avete già fatto questa scelta e mi rivolgo a tutti quanti noi fratelli e sorelle una scelta coraggiosa è una scelta che si pone una meta precisa a un punto di arrivo un credente non è che brancola nel buio non sa dove deve andare un credente ha una meta precisa e Giosia camminò in modo risoluto senza scostarsene né a destra e né a sinistra aveva una meta noi abbiamo conosciuto Gesù Cristo il salvatore e gli ha reso convinto la nostra scelta ci ha dato il coraggio di farlo ma conoscere Gesù come dicevo prima non equivale a conoscere una religione piuttosto che un'altra conoscere Gesù significa conoscere una persona meravigliosa non c'è al mondo una persona che sia più meravigliosa più bella più amabile più desiderabile di Gesù non c'è un nome che possa suonare più dolce del nome di Gesù conosci Gesù Gesù è la persona che ci ama molto di più di quanto ci amerebbe nostro padre o nostra madre nostra moglie i nostri figli o anche i nostri migliori amici Gesù è quell'amico che ama i in ogni tempo quando stiamo bene o quando stiamo male quando siamo allegri o quando siamo tristi quando siamo ricchi o quando siamo poveri Gesù ci ama sempre alla stessa maniera allo stesso modo lui non ci ama per la nostra condizione non ci ama per la nostra salute non ci ama per quello che siamo ci ama perché non può fare a meno di amarci non ci ha perdonato perché l'abbiamo meritato ci ha perdonato perché ci ama Gesù ti ama Gesù mi ama alleluia Gesù è nato per essere un fratello nel tempo della distretta mentre noi siamo in questa vita la promessa che vale più di tutte le altre la bibbia ha detto qualcuno che contiene quasi 3000 promesse 3000 promesse che sono per te sorella che sono per te fratello 3000 promesse che sono per te amico questa sera promesse che si realizzano ma ce n'è una mentre siamo in vita che vale più di tutte le altre perdonatemi forse qualcuno non la penserà come me io la penso così io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita io non lo so che cosa mi riserverà il domani dice un canto ma Gesù lo sa e lui è con me oggi e mi prepara per domani sia che sia un giorno felice sia che sia un giorno problematico lui mi dà la forza mi aiuta mi prepara perché con me sempre e conosce il mio domani gloria al nome del signore alleluia Gesù è la persona che ci aspetta nel cielo per radegrarsi con noi quando arriveremo per gioire con noi quando ci vedrà perché potrà dire oggi tu scendi nelle acque battesimali comincia un percorso e la nostra preghiera è che voi con noi noi con voi questo percorso si possa concludere nel cielo quando vedremo Gesù il premio dei credenti fratelli e sorelle vedere Gesù e noi aspettiamo di vedere Gesù e che quando ci vede possa aprire le braccia in senso di accoglienza e di tenerezza e possiamo sentirci dire ecco il mio sacrificio non è stato vano sono morto per te e non me ne pento questo dirà Gesù quando ci vedrà nel cielo fratelli e sorelle si rallegrerà perché saremo arrivati alla meta a proposito la meta una scelta coraggiosa ha una meta precisa e c'è un canto del nostro innario che dice è Cristo la meta di gioia completa salvo sono la nostra meta non è una meta terrena la nostra meta è una meta celeste la nostra meta non è una meta carnale la nostra meta è una meta spirituale perché Dio ha preparato un luogo per noi io lo vado a preparare poi verrò e vi accoglierò con me la nostra meta la vostra meta è Cristo Gesù se riguardi a Gesù allora potrei camminare su questa strada senza scostartene né a destra né a sinistra la meta precisa concludo per ogni credente che ha fatto una scelta coraggiosa è Gesù se non hai Gesù davanti ai tuoi occhi se Gesù non è la tua forza durante il cammino se Gesù non è la speranza della tua vita se Gesù non è la forza e la fonte da dove tu puoi trarre l'amore allora vuol dire che non hai ancora avuto il coraggio di fare la scelta giusta ma questa sera puoi questa sera puoi è vero è per loro questo giorno ma è anche per te che ancora non hai conosciuto Gesù questa persona meravigliosa che è qui proprio per te questa sera Gesù è qui e in questo momento pure tu mentre vedrai questi cari scendere nelle acque battesimali mentre pregheremo mentre avremo gli occhi chiusi tu potrai aprire il tuo cuore questa sera e potrai dire Gesù come hai fatto con loro ti prego entra nel mio cuore dai la forza anche a me di avere il coraggio di fare la scelta giusta come questi cari Dio ci benedica